I fondi FAS per creare buona occupazione. Parte da questo presupposto Damiano Verrocchi della CGL provinciale, che pur riconoscendo come i 17 milioni di euro non risolvano i problemi della Valle Peligna, di un territorio che in depressione in quanto reddito, occupazione, disoccupazione ed emigrazione sono i più negativi della Regione, ma almeno, dice, rappresentano il segno di un'inversione di tendenza. E questo il giudizio positivo della CGL sulla decisione del Comitato di Sorveglianza della Regione Abruzzo per la rimodulazione di alcune linee strategiche del PARFAS 2007-2013. È un risultato importante, prosegue Verrocchi, che la CGL ha perseguito in tutta la lunga fase della proposta e della concertazione e che oggi trova sostanza nella fase operativa con accordi di partenariato e bandi pubblici. Una fase operativa che la CGL chiede di essere veloce perché i soldi sono immediatamente spendibili e si possono utilizzare rapidamente con l'obiettivo di creare nuova e duratura occupazione. L'unità e la coesione di tutti gli attori del territorio, aggiunge Verrocchi, pur con ritardo hanno prodotto questo risultato, ma ora con i fondi europei assegnati alla Valle Peligna bisogna creare buona occupazione per i giovani e per ridare un minimo di vitalità economica e sociale all'intero comprensorio. La strada della condivisione dell'unità per Damiano Verrocchi ha prodotto questo risultato per il futuro bisogna insistere con una più convincente coesione territoriale anche in previsione dell'imminente programmazione europea. Risorse e progetti che non basteranno a risolvere gli atavici problemi occupazionali ma che almeno rimetteranno in moto una macchina alla Valle Peligna rimasta ferma per anni. Un po' di benzina al comparto turistico, alle imprese e ai servizi in attesa di progetti industriali più robusti e importanti perché è opportuno, conclude, che la Magneti Marelli si sviluppi ed entri nel campus automotive regionale. Turismo e manufatturiero sostenibile possono e devono coesistere.